Facciamo un mestiere particolare. Ogni giorno ci occupiamo di risorse e servizi. Acqua, energia, ambiente. E quello che fino ad oggi abbiamo fatto, lo abbiamo fatto insieme. Noi e voi. Perché forse non sapete che non solo state incentivando le fonti rinnovabili, ma state producendo energia dai rifiuti. Perché il miglior modo di risolvere un problema è trasformarlo in un vantaggio, trovando nuove forme di energia che migliorino la vita. State rendendo la tecnologia più familiare, per ricevere consigli su come evitare gli sprechi e ridurre i consumi. Trovare risposta a quelle domande di tutti i giorni, su cui abbiamo sempre dei dubbi, e imparare che a volte basta chiedere. Alexa, chiedi al rifiutologo di prenotare un ritiro a domicilio. Per avere la risposta giusta. State sostenendo l'impegno sociale del territorio, dando nuova vita alle cose. Quelle che continuano a essere utili, anche se sembrano vecchie. E quelle che possono essere recuperate, riciclate e usate di nuovo. E poi recuperate ancora, riciclate e usate un'altra volta, dandogli nuova forma. State mettendo il massimo impegno per prevenire i problemi. Oltre che risolverli. State cambiando il modo di fare le cose, per farle sempre meglio. State dando l'esempio, perché l'unica cosa che conta è passare dalle parole ai fatti. State investendo nei giovani e in tutta la comunità, perché la risorsa più importante è la conoscenza. Una risorsa sostenibile che più si condivide, più si diffonde e più si rinnova. Stiamo facendo tutto questo. Voi e noi. Da vent'anni. Perché il futuro si costruisce ogni giorno. Ed è incredibile quello che possiamo fare. Insieme. Grazie a tutti. Grazie !